Io ho già il mio quadro, io so già come comportarmi, io so già cosa gli devo dare. Io ho già il mio... la mia retta via. Oh no, mi vieni da piangere per te, ti gioco. Io mi sento che gli posso dare quello che non gli ho mai dato. È la vera cosa. Tutto quello che lei voleva fare io mi sento già di darglielo. Mi sento proprio di... di dargli le mancanze di lo dato. Cosa bella, amore. Allora lo capisce. Certo, piccolina. Cerco di aggiustare il più possibile la storia. Sei felice un po'? Ti è passata un po' Dante. Ti rincuora? Comunque è un video bellissimo, amore. Sì. Capisci che... È il video più bello che abbiamo visto. È la persona più, credimi, più innamorata forse qui dentro. Oddio. 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 Grazie.